ciao a tutti oggi lavoriamo col collage per prima cosa ci ritagliamo da un giornale diversi pezzi di carte colorate colorate in modo diverso colori caldi colori freddi tinte unite carte con texture diverse e poi cominciamo per esempio io oggi voglio fare del collage cercando di comporre dei volti cominciamo a ritagliare per esempio proprio il rotondo della faccia poi un cappello poi un mezzo vestito per i tratti del volto possiamo usare per esempio una penna nera oppure possiamo rifare dei ritagli piccolini per il naso per le guance per la bocca e poi incollarli sulla faccia direttamente a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ciao, alla prossima!